Siamo giunti alla penultima puntata di Loki, una penultima puntata molto carina nel complesso, molto bella soprattutto dal punto di vista degli effetti speciali ma su questo la Marvel difficilmente sbaglia, ma come detto nella scorsa recensione ho un po' paura ho un po' paura che il tutto verrà risolto nell'ultima puntata, anzi sarà così perché praticamente questa puntata non è che sia andata avanti con la trama è una puntata dove sì, abbiamo capito che quelle delle TVA non uccidono del tutto le varianti ma le portano in questa dimensione dove c'è questa nube enorme chiamata Lyot con la testa di una specie di drago alligatore, non si capisce benissimo cos'è, che appunto cerca di distruggerle e la puntata si è basata principalmente su questo no, perché vediamo Loki che incontra altre sue varianti di tutti i tipi a forma di coccodrillo insomma ci sono varie varianti e la puntata si basa su questo, su questa dimensione dove Loki deve trovare un modo di scappare, di andare via e non è che succeda molto altro perché facciamo la conoscenza ancora di altre varianti di quei Loki che abbiamo visto nel trailer da mesi e mesi con la spilletta che è una specie di presidente ma è una roba che dura da 5 minuti e che non è servita a niente poi vediamo che anche Sylvie che si trova alla TVA cerca informazioni su chi ha cattuto la TVA ma alla fine anche questa volta l'argomento viene rimandato e Sylvie pur di non essere cattuata da TVA si autodissolve e finisce insomma nella dimensione dove ci sono gli altri Loki tra l'altro vediamo che anche Mobius è sopravvissuto ovviamente perché come detto prima quelli da TVA praticamente non uccidono del tutto le varianti ma le portano in questa dimensione, una sorta di dimensione caotica, insomma una sorta di spazzatura delle varianti dove appunto queste varianti vengono gettate qui dove non c'è possibilità di tornare nella propria dimensione e in sostanza alla fine cosa succede? succede che i Loki uniscono le forze, sconfiggono questo mostro chiamato Lyot e la puntata si conclude qua cioè ragazzi non è veramente, non c'è molto da dire per quanto sia stata bella da guardare belli effetti speciali, tutto quello che vuoi ma la sostanza secondo me al livello di trama è mancata un pochettino siamo arrivati alla prima puntata e ancora non si è capito chi c'è dietro la TVA ovviamente penso che lo scopriremo nella sesta perché ormai a questo punto siamo arrivati alla fine però spero che quest'ultima puntata riesca a rispondere un po' a tutte le domande vediamo se riescono a gestire tutto nell'ultima puntata secondo me avrebbero potuto iniziare a farci capire e vedere chi c'è dietro tutto e invece vabbè ce la giochiamo tutta nell'ultima puntata e vabbè, vabbè, speriamo che non facciano un pasticcio come Vandavicio ragazzi speriamo che non vada a finire come quella serie la puntata ripeto ragazzi mi è anche piaciuta perché non è brutta la puntata però sono preoccupato, sono preoccupato che arriviamo alla fine e non si riesce a rispondere a tutte le domande magari rimaste un po' aperte dobbiamo anche vedere Mobius cosa farà la TVA, cosa ne sarà della TVA insomma cosa ne sarà di Loki, di Silvina per il momento questo è quanto e niente ragazzi ci vediamo settimana prossima con l'ultima puntata speriamo bene voi intanto ditemi un po' cosa ne pensate di quest'ultima se vi è piaciuta, se insomma avete buone aspettative per il finale io devo dire che nel complesso la serie di Loki per ora l'ho trovata buona abbastanza buona ma vediamo come andrà a concludersi con l'ultima puntata spero, ripeto spero che non faremo la fine di Vandavicio perché se no veramente che palle dai però voglio essere fiducioso quindi ci vediamo settimana prossima mercoledì, sesta puntata si chiude Loki e niente vediamo un po' dove andremo a parlare ragazzi un saluto a tutti, iscrivetevi al canale e seguitemi su Twitch dove approfondiremo la puntata dove ne parleremo tutti insieme e vi ricordo ragazzi che se siete abbonati al canale Twitch vi invito semplicemente ad un il mio gruppo Telegram che trovate in descrizione ragazzi vi saluto e ci vediamo con Loki settimana prossima per il finale un saluto a tutti e a settimana prossima